Vasil per Delibaschi del Gadù e della Furgor Liberstad-Furlì, mamma mia che partita, vinta per due volte. Sì, sicuramente è stata una gran partita, ha visto anche l'assenza importante di Roderick, abbiamo iniziato subito forte in difesa, abbiamo sfruttato il contropiede e siamo andati subito a primo tempo sopra di venti, all'inizio del terzo quarto un po' loro comunque si sono rientrati carichi, noi ci siamo fatti un po' recuperare, alla fine comunque si è stati bravi tutti quanti, tutti insieme come una squadra a riuscire a portare questa partita, è importantissima, visto la posizione playoff che siamo passati poi come quinto invece di come sesto. Il coach ti ha dato tantissimi minuti questa sera, vista l'assenza anche di Roderick, hai risposto molto bene, te l'aspettavi? Sono stato molto contento, già dalle ultime partite comunque il coach mi ha iniziato a dare fiducia, mi ha iniziato a dare comunque molti minuti importanti, sono sempre stato contento, oggi è data anche l'assenza di Roderick, sono stato molto contento anche perché mi ha dato comunque minuti importanti alla fine dell'ultimo quarto e spero comunque di continuare a procedere. Ora avanti con Brescia! Avanti con Brescia!